Quattro scuole di Faenza ottengono finanziamenti per progetti di sostegno all'istruzione extrascolastica. Si tratta di un finanziamento di 20.000 euro per mettere in campo azioni, progetti e laboratori per i giovani studenti faentini. È un contributo a fronte di una progettualità condivisa con le dirigenti degli istituti comprensivi. Sono soldi finalizzati a potenziare l'offerta formativa in orario extrascolastico. 20.000 euro da dividere fra quattro istituti, quindi sono 5.000 euro a testa. Non è soltanto questo finanziamento che mette in evidenza l'impegno dell'amministrazione comunale per sostenere il diritto allo studio. Guardavo prima i dati, complessivamente il Comune di Faenza investe sulla formazione scolastica circa 3 milioni e mezzo all'anno. È chiaro che in questa somma ci sono anche i costi delle riflessioni scolastiche, dei trasporti scolastici, che sono particolarmente significativi. Ma c'è anche i contributi per l'acquisto dei libri di testo e anche un certo numero di somme per sostenere le scuole nelle attività extracurricolari, di cui questo progetto che presentiamo oggi ne è l'esempio.